Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna, due chilometri di coda in aumento tra Rezzo e Valdarno per lavori. Su raccordo Siena-Firenze per lavori in entrambe le direzioni in rallentamenti tra San Casciano e l'allacciamento per l'A1. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione sud. Sulla FIPILI per lavori è chiuso il nodo per la diramazione di Pisa in direzione Firenze. Ricordiamo che la funicolare di Certaldo resterà temporaneamente chiusa per lavori fino al 9 marzo. Servizio di trasporto pubblico alternativo, un minibus che collegherà la zona bassa con il centro storico. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!